Quando senti parlare dei linguaggi di markup, la prima cosa che ti viene in mente, giustamente, è l'HTML e la tua reazione subito è Pfff, certo, il linguaggio utilizzato è per le pagine web. Ma lo sapevi che HTML non serve solo per fare pagine web e che non è nemmeno l'unico linguaggio di markup? Se usi il linguaggio di markup correttamente, infatti, puoi dire addio al tuo Word Processor perché sarai in grado di produrre documenti molto più belli da vedere e senza tutte le bestemmie dovute al fatto che il Word Processor ti ha svinchiato la formattazione per la centesima volta in dieci minuti. Prima di continuare, ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano, iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Ok, iniziamo prima a capire la differenza tra linguaggio di programmazione e linguaggio di markup. Un linguaggio di programmazione fa eseguire delle operazioni al computer, mentre un linguaggio di markup descrive la struttura e a volte la formattazione di un documento di testo. Vediamo il linguaggio HTML, che come ben sai è il linguaggio utilizzato per le pagine web. Originariamente, nel 1991, quando Tim Berners-Lee ha inventato il OneWayWeb, HTML consisteva semplicemente in del testo più dei tag per i cosiddetti hyperlink, cioè link a pagine esterne. Con il boom di internet a metà anni 90 e la contemporanea guerra dei browser tra Nescape Navigator e Microsoft Internet Explorer, ecco che HTML inizia ad acquisire nuovi tag per immagini, tabelle, dimensioni, colore del testo, dello sfondo e vari effetti speciali tipo testo lampeggiante o scorrevole. Durante questo periodo i siti web avevano un aspetto osceno, per esempio come questo. E questo era dovuto a due fattori principali. Il primo, più evidente, è che le pagine web erano fatte in modo amatoriale, da persone che non hanno le vasi del design. Il secondo, però, è che HTML incorporava in sé tutto, dal contenuto alla struttura della pagina agli elementi di presentazione. Era tutta una cozzaglia unica, insomma. E questa cozzaglia unica sai dove la trovi ancora? La trovi nel Word Processor. Mentre stai scrivendo un documento e dovresti essere concentrato sul contenuto di questo documento, sei invece costantemente distratto da tutti i tool di presentazione, come le dimensioni del fonte, l'allenamento dei paragrafi, il posizionamento delle immagini e così via. Sarà capitato anche a te di leggere i documenti che contengono 12 fonti differenti e con paragrafi dalla dimensione e spazzatura incoesistente. Ci deve essere un modo migliore. E c'è. Il segreto sta nel separare contenuto e struttura dalla presentazione. Per intenderci. Per struttura intendo che viene indicato quale parte del documento è un titolo, quali sono i paragrafi, le liste e via dicendo. Mentre per presentazione intendo il modo in cui le varie parti del testo vengono presentate. Per esempio le dimensioni del font, l'allenamento dei paragrafi, potesse mostrare i titoli in grassetto oppure no e via dicendo. Torniamo alla storia del nostro bel HTML. Nel 1997 il World Wide Web Consortium si è reso conto che questa cozzaglia di contenuto, struttura e presentazione non andava bene. E quindi ha deciso di dividere HTML, che contiene solo più contenuto e struttura del documento, e delegare al CSS la parte di presentazione. Una chiara divisione tra struttura e presentazione porta numerosi vantaggi, tra i quali Quando scrivi il documento sei più concentrato sul contenuto del documento, piuttosto che su come si presenta questo documento. Dai più importanza al fatto che il tuo documento abbia una certa struttura, quindi lo pensi a livello di titoli, sottotitoli e paragrafi, al posto di fonte dimensione 36 grassetto o fonte di dimensioni 12 normale. Il documento finale ha un aspetto più coerente, perché il CSS applica le stesse regole a tutto il documento. Un aspetto molto bello che voglio farti notare è che HTML e CSS non servono solo per le pagine web, ma puoi anche usarli per produrre documenti PDF, o facendo stampa su PDF dal tuo browser, oppure utilizzando un programma tipo EasyPrint da riga di comando. In teoria potresti sostituire il tuo Word Processor con dei PDF generati da HTML e CSS, ma mi rendo conto che scrivere documenti in HTML è un po' scomodo. Più avanti in questo video vedremo dei linguaggi di markup molto più semplici che possono poi venire automaticamente trasformati in HTML e quindi in PDF. Giusto per curiosità ti dico che nei video che faccio per le slide utilizzo un tool chiamato Reveal.js, che permette di fare delle slide in maniera semplice utilizzando HTML oppure Markdown, che vedremo più avanti. Veniamo ora a Latex, che si pronuncia Latex per via del fatto che si tratta di lettere greche, roba troppo dannare pure per me. Fatto sta che è un linguaggio di markup che ha alle spalle una storia molto lunga. Basti pensare che la prima versione risale a metà anni Ottanta. Ha la fama di produrre documenti molto belli da vedere, dall'aspetto professionale, e soprattutto è imbattibile per quanto riguarda il rendering delle formule matematiche. Queste sue caratteristiche hanno fatto sì che diventasse molto popolare in ambito accademico-universitario, soprattutto nelle facoltà scientifiche dove le formule matematiche sono all'ordine del giorno. Piccola parentesi, il nome Latex è abbastanza sfortunato nell'area dell'internet. Non ti dico quanto porno ho dovuto filtrare prima di trovare questa immagine. Come avevamo visto poc'anzi con HTML, anche con Latex la filosofia è quella che tu ti concentra a scrivere il contenuto e la struttura del tuo documento, e Latex si occuperà dell'impaginazione, facendo un lavoro molto migliore di quanto tu hai mai sperato di fare con un Word processor. Personalmente riconosco le potenzialità di questo linguaggio, ma non riesco ancora a capire alcune cose di base. Per esempio, esiste l'equivalente dei CSS per Latex. Nel caso io voglia cambiare degli stili, mettere un header di una certa complessità sulla prima o su tutte le pagine o presentare in un certo modo solo una parte del documento. Come faccio? Se hai informazioni a riguardo, scrivile qui sotto nei commenti. Magari con un link ad un articolo o a un documento a riguardo. Grazie. A parte questo, come avevamo visto per HTML, è possibile utilizzare un linguaggio di markup più semplice, che vedremo tra poco, per poi convertirlo in Latex ed infine in PDF. In teoria, questa sarebbe la soluzione ideale per scrivere documenti, perché unisci la semplicità dei linguaggi di markup leggeri alla bellezza di Latex. Ma, finché non capisco il modo in cui fare le personalizzazioni di cui parlavo prima, possibilmente utilizzando un file esterno, proprio come capita con CSS, non me la sento di consigliarti questa strada, o almeno non senza riserve. Parliamo ora dei linguaggi di markup, cosiddetti leggeri, perché si tratta di testo facilmente leggibile anche da sorgente, dove il markup c'è ma non si vede. Il più famoso di questi è sicuramente Markdown, usatissimo per praticamente tutti i file aritmi che trovi su GitHub, ma non solo. È usato anche da generatori di siti web statici come Jacky e Pelican, puoi scriverci le slide di Revl.js, e tanti altri utilizzi ancora. Se da un lato Markdown è leggero e semplice, dall'altro ha degli aspetti negativi che vanno detti. Non esiste un'unica implementazione di Markdown. Questo significa che, a seconda del tool che utilizzi, potresti trovarti ad utilizzare estensioni in linguaggio incompatibili tra un'implementazione ed un'altra. Anche se, a dirla tutta, negli ultimi anni, pare che la variante di Markdown verso la quale sembrano convergere la maggior parte delle implementazioni sia GitHub Flavored Markdown. Data la sua estrema semplicità, è un linguaggio incompleto. Non c'è verso, per esempio, di dare un ID oppure una classe ad una porzione del documento, per poi magari applicargli uno stile particolare. Essendo un linguaggio nato per il web, Markdown ovvia le sue limitazioni, permettendoti di incorporare frammenti di HTML all'interno del documento. Non farti scoraggiare dagli aspetti negativi, però. Se non hai esigenze particolari e quello che offre Markdown ti basta, è un ottimo linguaggio, semplice e leggibile, che ti consiglio di iniziare ad utilizzare per piccoli documenti semplici. Se vuoi convertire un documento Markdown in PDF, ti consiglio di utilizzare l'eccellente tool Pandoc, che ti permette di convertire praticamente qualsiasi linguaggio di Markup in un qualsiasi altro linguaggio di Markup e anche in PDF. Puoi scegliere se generare il PDF convertendo prima in HTML oppure generare il PDF convertendo prima in LaTeX. Passiamo ora a Restructure the Text, creato originariamente per la documentazione di Python, ma poi successivamente utilizzato anche in altri ambiti. È un linguaggio di Markup molto più completo di Markdown, ma allo stesso tempo non tanto più complesso. Degno di nota è il tool Sphinx, che permette di generare molto facilmente documentazione tecnica, soprattutto di software. Per darti un'idea, tutta la documentazione che trovi sul sito di ReadDocs è fatta con Sphinx. Oltre che per fare documentazione tecnica, è possibile utilizzare Restructure the Text anche per fare siti web statici utilizzando il tool Pelican. Oltre che in HTML, è possibile convertire documenti Restructure the Text in PDF o utilizzando Pandoc, come avevamo visto per Markdown, oppure usando tool come Rst2PDF oppure RhinoType che convertono Restructure the Text direttamente in PDF senza passare da formati intermedi. Personalmente trovo Restructure the Text ottimo, sia dal punto di vista del linguaggio, che secondo me ha un ottimo equilibrio tra funzionalità e semplicità, sia dal punto di vista dei tool disponibili, che danno a Restructure the Text una versatilità invidiabile. Finiamo la carrellata sui linguaggi di markup parlando di Asciidoc. Asciidoc nasce come alternativa leggera a DocBook XML, un formato per scrivere documentazione tecnica. E infatti troviamo Asciidoc utilizzando per esempio per la documentazione di Git oppure per alcuni libri di Aureli. Io uso Asciidoc pure per scrivere le manpage dei programmi che scrivo perché trovo Asciidoc molto più leggibile di TROF. A livello di funzionalità, Asciidoc è molto completo. Direi che siamo a livelli di Restructure the Text con Sphinx, se non addirittura meglio. A livello di tools, invece, siamo un po' carenti. Esistono due implementazioni di Asciidoc. Una fatta in Python, chiamata per l'appunto Asciidoc, e una fatta in Ruby, chiamata Asciidoctor. Le due implementazioni si equivalgono più o meno, ma l'implementazione in Python permette di generare PDF, sempre passando tramite l'Atec, mentre quella in Ruby no. Però l'implementazione in Ruby produce documenti HTML con un aspetto di default più bello. Come dicevo un attimo fa, se stai scrivendo un programma per un sistema Unix-like tipo Linux, troverai comodo il fatto che entrambe le implementazioni di Asciidoc ti permettono di generare delle ManPage in maniera molto semplice. Come avevamo visto per Markdown, è anche possibile convertire Asciidoc in PDF utilizzando il tool Pandoc, oppure utilizzando il tool A2X presente nell'implementazione Python di Asciidoc. Concludendo. Abbiamo visto che utilizzare un Word Processor significa fare una cozzaglia unica di contenuto, struttura e presentazione. Questo è un modo pessimo di lavorare che produce risultati scadenti. Possiamo pensare a HTML e Latec come dei formati di output intermedi che ci servono per arrivare al risultato finale di un PDF ben impaginato. Grazie a Pandoc possiamo scrivere i nostri documenti con dei linguaggi di markup molto semplici come Markdown, Restrattore di Text e Asciidoc che produrranno poi un PDF bello da vedere passando ad HTML oppure da Latec. Un altro grosso vantaggio di scrivere i nostri documenti in un linguaggio di markup è che il documento è un semplice file di testo. Quindi, oltre che poter scrivere il documento con il nostro editore di testo preferito è possibile utilizzare un sistema di controllo di versione tipo Git per tenere tracce delle modifiche. Oppure, possiamo automatizzare delle operazioni sul documento usando SED, AVK e Perl come avevamo visto nello scorso video. Prova a fare la stessa cosa con Word Processor. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odyssey. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao! Potresti sostituire il tuo Word Processor con The General perché trovo ASKIDOC molto più leggibile di Totoro.